Il Rimini ritrova sul suo cammino la prima squadra di due che è riuscita a dargli un dispiacere in questo campionato, il Mezzolara, all'andata vittorioso 2-1. Al Romeo Neri sarà sfida tra la prima e la quarta della classe, divisa in classifica da 26 lunghezze. Mister Gaburro ritrova i bomber Gabbianelli e Mencagli che hanno scontato la squalifica, non Greselin, alle prese con un guaio muscolare. Così come non sono a disposizione gli infortunati Andreise e Tomassini e Camarà ancora in nazionale. Al quarto la punizione dal limite dell'area di Cortesi sfila lato. Più insidioso il calcio piazzato di Gabbianelli che al sesto chiama Malagoli al primo intervento. Al quattordicesimo Deratti è chiuso in area del duo Dallosso-Roselli, il numero 2 Biancorosso finisce a terra, l'arbitro lascia proseguire. Al diciannovesimo il tentativo da fuori area di Melli è lontano dal bersaglio. Al ventitresimo Averi sbaglia il controllo, se Miao Granato può tentare il diagonale largo. Al venticinquesimo incursione all'area di Piscitella che cerca lo spazio per il tiro. La sua conclusione viene murata dai difensori bolognesi. Alla mezz'ora secondo corner per il Rimini. Piscitella appoggia il limite dell'area per Panelli che non trova il bersaglio. Al trentaquattresimo Tonelli dall'auto di sinistra per Piscitella che spedisce a fondo campo. Al trentaseisimo Cortesi schiaccia di testa su un traversone da destra, ordinare amministrazione per Marietta. Al quarantaduesimo il tiro cross di Averi mette in difficoltà Malagoli. La sfera arriva sui piedi di Callegaro che spara fuori con la porta sguarnita. Al quarantacinquesimo la punizione da posizione di filata di Cortesi deviata si bella lato di poco. Si va all'intervallo sullo 0-0. Al quinto della ripresa Gabbianelli scodella in area per Mencagli che cerca Piscitella anticipato da Melli. Al dodicesimo punizione di Gabbianelli sponda di Pietrangeli incornata di Tanasa pallone oltre alla traversa. Al diciottesimo il tiro del neontrato Pecce ribattuto da Malagoli. Al ventesimo il tentativo di Landi da dentro l'area chiama gli straordinari Marietta. Al ventitresimo brecche di Tanasa Gabbianelli in verticale per Mencagli anticipato da Malagoli in uscita. Al ventiseiesimo Gabbianelli cerca direttamente la porta da calcio da fermo. L'estremo ospite non si lascia sorprendere. Al ventottesimo lancio di Gabbianelli per Mencagli trattenuto da Dallosso. Per il numero 5 del mezzolara già munito scatta il secondo giallo. Ospiti in dieci. Al trentaduesimo rimessa di Melli. Roseli raccoglie la ribattuta della retroguarda di casa e spedisce a lato. Al trentatresimo Gabbianelli per Piscitella che si sistema il pallone e calcia giro. Sfera lontana dei pali difesi da Malagoli. Il minuto 39 è quello decisivo. Quinto corner per il Rimini. Gabbianelli mette al centro per l'incornata vincente di Pietrangeli. Biancorossi avanti 1-0. Finisce così. Il Rimini sale a quota 73 in classifica. Restano 5 punti di vantaggio sulla Ravenna. Vittorioso a Prato.